Ciao, hey la! Come state? Spero bene, spero e purtroppo il titolo parla veramente chiaro Non sarà un video molto lungo perché voglio fare le cose spiccicale, veloce al volo, dico le cose come stanno E poi ci vediamo in live per comunque fare una reazione ai commenti bannabili sul mio account youtube, esattamente Purtroppo di bannabile non ci sono solamente i commenti ma perché purtroppo youtube ha deciso di darmi un gran bel avvertimento sul canale grosso come il mio ucce In che senso? Mi spiego meglio, sapete ragazzi è da un bel po' di tempo ragazzi che io carico video sui Gacha Life da tanto tempo Che faccio reaction in generale, prima facevo Minecraft, mi sono spostato comunque sia a fare le reazioni Sempre nelle reazioni a Minecraft e poi mi sono spostato a fare le reazioni in renti un po' a quello che mi andava E quello che mi piaceva comunque sia a reattare un po' in giro per il web insomma Ho fatto tanto successo, ho fatto successo con molte reazioni, sono contentissimo ed ero anche contento anche del fatto di essere riconosciuto Anche per quello che facciamo anche Gacha Life, bene o male perché comunque in Italia nessuno fa queste reaction qui Nessuno fa le reaction dove reagiscono diciamo ai video dei Gacha Dei bambini di 7, 8 anni, 9 anni che hanno una grammatica veramente pietosa E hanno una storia veramente pietosa per reagirci sopra e farci contenuto Ridendo e scherzando ma non ridendo della persona, ridendo del contenuto che ha creato la persona E non scherzando chiunque meno male quello che è stato dietro al Gacha Se non per la grammatica comunque siamo alla battuta di per lì ci sta Mi spiego meglio sul perché non voglio più fare video sui Gacha Life O perché comunque sarà questo l'ultimo video sui Gacha O meglio mi spiego ancora meglio su questo canale Perché ragazzi e belli purtroppo ieri ho ricevuto un avviso sul mio canale Ok ecco è un avviso per chi non lo sapesse sarebbe una sorta di Ehi stai attento te lo stiamo per mettere dove non mette il sole eh Occhio che se fai questi tipi di video qui e ne pensi un altro il tuo canale va a caput Hai capito? Io prendo te e ti apro il sedere Non è questa comunque la cosa che comunque mi ha dato YouTube Anche se meno male lì per lì l'abbiamo interpretata così ecco insomma Ieri alle ore credo verso le 7 e mezza tra le 8 Mi arriva un avviso sulla mia dash di YouTube Dove il seguente contenuto che avevo caricato sempre ieri alle ore 16 barra 17 Era stato rimosso per una motivazione che tuttora io non mi so spiegare Tuttora nonostante io abbia fatto comunque sia ricorso anche al video Non mi hanno ancora saputo dare una spiegazione valida del perché me l'hanno tolto Il video in sé per sé ragazzi non contiene niente di quello per cui mi è stato rimosso Ma adesso andiamo a vedere bene in che senso adesso Perché ragazzi e belli sono circa un anno e qualcosa che ho fatto reaction ai gaccia live Un anno e qualcosa e passa che ho fatto reaction sia ai doppiaggi sia anche ai gaccia live stupidi A quelli molto più stupidi e a quelli molto piccanti anche Con delle immagini e delle robe che ragazzi e belli non vi so dire neanche se potrebbero veramente stare su YouTube Ma purtroppo ci sono e incredibilmente ogni ogni gaccia live uppato non mi ha mai dato nessun problema Mai mai davvero e la serie esplosa le mie reaction ai gaccia live sono sempre piaciute comunque a chiunque Però purtroppo ci sono iniziati ad esserci i primi problemi che chi comunque sia fa questo come lavoro Che io non lo considero fino a prova contraria un lavoro comunque per me perché lo è sì Perché comunque pagando tasse pagando il cazzo che è insomma per poter campare Pagarti i propri contributi per una pensione che non arriverà mai Questa è una cosa che comunque piano piano comunque voi da grandi imparerete a capire che cos'è Oppure se la chiedete anche i vostri genitori vi diranno Guarda la pensione vuoi sapere cos'è questa qui guarda Della serie che non esiste se è tipo svamperà come una scoleggia nel 2030 Però dettagli Insomma iniziano ad arrivare bollini gialli a manetta Per chi non lo sapesse ragazzi i bollini gialli sono quelli che non ti consentono di poter modernizzare il video appieno E se tu che fai video comunque sia per poter campare effettivamente Pagare comunque sia queste dovute allo stato insomma O comunque sia anche poter avere una vita comunque adagiata anche Se iniziano ad arrivare tanti bollini gialli Diciamo che tu non hai più quel guadagno come una volta Anzi inizia ad avere un guadagno molto ristretto Che fortunatamente ragazzi non mi baso solo su youtube Mi baso anche su altri fattori per avere comunque sia il mio guadagno Fortunatamente Ma diciamo che fa storcere il naso Perché comunque tutto il lavoro che hai fatto va poi in fumo Perché sono caccia Ragazzi perché sono caccia Su youtube non sono visti bene Youtube non vede bene i caccia live Non li vedrà mai bene E questo perché? Perché per colpa di tutto lo schifo che gira attorno a quella playbook Con tutto lo schifo che si è generato intorno a quella community lì Youtube non vede bene i video di gaccia Youtube anche a chiunque meno male che è un creator di gaccia live Che carica video Avrà o la limitazione o qualche video gli sarà rimosso Qualcosa comunque sia di avviso ce l'ha sul canale per forza Quindi e questo perché? Perché purtroppo tutto quello che è accaduto su youtube riguardo ai gaccia Youtube ha messo secondo me Per questo è il mio parere personale Ha messo un puntino Grosso così ragazzi Sui gaccia Oramai non sono più visti bene Non erano visti bene prima Non saranno visti bene adesso E ora Ancora di più Anche per me Verranno visti ancora più male Perché ragazzi non è possibile Che io carico una reaction Ad un gaccia live Che è presente all'interno di youtube Che è ancora vivo È ancora sul canale Non è stato rimosso Né nient'altro Mentre il mio invece È stato rimosso Ho avuto pure un avviso sul canale E youtube mi ha dato due sberle Anche facendomi fare Non lo so Una sottospecie di concorso di colpa Travite un quizettone Per capire se ho capito le regole di youtube Una roba strana che quando appunto ti danno un avviso Ti fanno capire Ma hai capito le cose? Hai capito quale è stato il tuo problema? Cosa che in realtà non c'era E quindi ti propone un quiz Per capire bene Se tu hai fatto O meglio Fatto scuola Come si deve Per capire di non fare più Quello stesso errore Anche se l'errore tu Ahimè non l'hai mai fatto Ma andiamo a capire Che tipo di errore è Andiamo subito a comprendere Che tipo di errore è Benissimo Siamo sulla mia dashboard Del mio canale E qui possiamo notare Che cosa è comunque che non va E abbiamo un avviso Tra l'altro D'avvertenza Cioè degli avvertimenti Relativi alle norme Della community Avviso I tuoi contenuti Sono stati rimosso A causa di una violazione Delle norme della community Hai ricevuto un avviso Puoi seguire Una formazione relativa Alle norme Che rimuoverà l'avviso Dopo 90 giorni Ed è quello che ho dovuto fare Per rimuovere l'avviso Comunque sia Quindi a me Mi verrà rimosso Il 22 dicembre Del 2024 Sempre Che bello Non vedevo l'ora Di avere una rottura di palle Incredibile Andiamo a capire Come mai Andiamo a capire Perché Diciamo ho ricevuto Questo avviso qui Ho regito il fondo Dei gacha live ragazzi Che è un video Che ho caricato comunque ieri Che per chi non l'ha visto Comunque sia è stato rimosso E fin qui ci siamo anche Ma l'avviso È stato dato E il video è stato rimosso Per nudità E contenuti di natura sessuale Io Ragazzi vi giuro Ve lo giuro su dio Non c'era Niente Niente di nudità Cosa ci deve essere Dentro a un video Di due Che sono In una challenge Che fanno Da 24 ore In calore Cosa ci deve stare Che su youtube C'è gente che si depila Il buco Con una crema Ho visto un video Di un cinese Che si mette lì A pila il buco Allarga Le sue nati Che le allarga Fa vedere il suo grande Enorme portale del nether Bello nero E inizia tipo a schiaffarci Da lì E lo rimuove Rimuove tutti i peli Con una crema Per promuovere una crema Io sono d'accordo Ok vabbè ci sta Lo posso capire Comunque sia che tu devi promuovere Una crema Va bene lo posso capire Ma infine a una certa Io posso comprendere queste cose Perché anche lì Caspita Quello Quello è un culo Capito Un culo Senza mutate Che stai lì davanti Cioè io Che colpa ne ho io Cioè Ma andiamo a capire Perché comunque sia Cioè tra l'altro Ricorso per evitare comunque sia Che venga buttato giù il video Feci il ricorso E lo feci sempre Nello stesso giorno E poi La notte Verso le 3 Qualcosa del mattino Che io ero ancora sveglio Perché ero a casa Alle amici E erano a ridere e scherzare Noto che il ricorso È stato rifiutato E io sono Sbigotito ancora ragazzi Vi giuro Perché io poi vado a guardare Io vado a vedere bene Vado a vedere Ragazzi Il Il video Non è È stato dimosso Non è possibile monetizzare Perché Perché comunque è stato dimosso Ma Qua c'è La situazione Del perché Il video è stato tolto Questa scena Che mi toccherà Blurrare Mi toccherà Mi toccherà Blurrare di brutto Mi toccherà ragazzi Mi toccherà Blurrare Perché voglio evitare Che sai com'è appunto La prima volta Mi debba beccare La rottura di palla Da parte di youtube Ragazzi Questa è la scena Tu me lo hai messo Tu me lo togli Tu cos'è che hai messo E cos'è che hai tolto Ragazzi Ma cosa infilano Sti ragazzi Qui per essere così tanto Motivati nell'avere Adesso Io voglio chiedere Effettivamente A youtube Perché comunque Poi qui sotto c'è una spiegazione Il loro avviso poi Che tra l'altro Mi dicono sotto I comportamenti di natura Sessuale impliciti In cui vengono usati Sex toy Che ammirano A essere sessualmente Gratificanti Non sono così Su youtube Potrebbero essere ammessa Rare eccezioni In caso di contenuti Con un contesto formativo Documentaristico Scientifico E come no Gazzi Gaggia che cosa sono Scusami Gaggia sono quelli Che per eccellenza Sono appunto Quelli che fanno Educazione sessuale Nei confronti dei bambini Tra l'altro Da poco comunque Le gassi ci mettono Anche i cari porci Comunque sia A far l'amore Comincia tu Cioè nel se Capiamoci anche Capiamoci Youtube Capiamoci Perché Questo è un problema Di fondo Questo ragazzi Questo è un problema Di fondo La scena Che è stata Presa Ed è stata Tolta E' stata comunque Sia stata la goccia Che ha fatto Traboccare Comunque La rimozione Del video E' stata questa Questa qui Di uno che Prende E sbatte lei Sul letto La fa diventare Freaky E' buona Cioè E io sono So stanco Sono stanco Raga vi giuro Sono stanco Perché Mi devo beccare Poi rotture di palle Da parte di youtube Per colpa di cose Che io non ho nemmeno Io feci anche appunto Ricorso anche a youtube Comunque sia per questa cosa Qui come dissi prima E mi è stato Subito dopo Rimosso Cioè purtroppo Io so già Di storie di youtubers Che hanno avuto Comunque sia avvisi Anche strike Per cose anche meno Comunque sia Per cose ancora più stupide Tra l'altro Anche per cose che Non stanno Ne in cielo Ne in terra Però Mi credete ragazzi Che io sono Stufo effettivamente Sono veramente stufo Di dover Fare un video Editarlo Ridere e scherzarci sopra Comunque sia tutto E poi Da arrivare Non neanche dice Cioè essere limitato Perché è limitato Ancora ancora Tu dici vabbè Poi youtube mi fa La revisione automatica Anche se appunto Io non posso caricare Video giornalmente Perché purtroppo Youtube cosa fa Lo carichi il video Boom Viene subito 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 Nell'istante Preso di mira E messo il burino Giallo Senza neanche Comunque poter Prendere E anche Volutare Effettivamente Appunto tramite Una O una persona Normale Che il video Appunto possa Essere comunque Sia moralizzata Tutti quanti Senza magari Fidarsi neanche Di me Non lo so Perché vabbè Ragazzi Non ve lo so Ma sono stanco Perché Uno c'ho questo problema Qui del fatto Che ogni video Che carico E' limitato Quindi devo aspettare Che comunque Siamo limitano Tramite una persona Che si mette lì A controllarlo E si mette lì A verificarlo Sul fatto che Comunque sia Idoneo o meno E l'altro E questo Cioè io Boh Mi limitate il video Vi dico ancora ancora Vabbè Ok Ma poi mi devo Beccare Dei strike Dei avvisi Qualsissima altra cosa Sia questa cosa Qui insomma Sul mio canale Per colpa di una cosa Che non ho neanche fatto Per colpa Magari dei gacha life Che sono effettivamente Un contenuto stupido Che non vale niente Perché di nudismo E di sex toy Io qui in mezzo Non vedo niente Non vedo Non c'è niente Non c'è Ragazzi E io penso comunque Di farvelo vedere anche a voi A 360 gradi Io sono proprio Fuso Sono nervoso Sono arrabbiato Sono deluso Sono tutto quello Che potete comunque Buttarci lì in mezzo Ragazzi fate un bambazzone Che sono io in questo momento Comunque Perché ogni volta Ragazzi C'è sempre una cosa Che va bene C'è una cosa Che mi fa sempre male E questa è la peggiore Delle cose Che possa capitarmi Il fatto è che comunque Mi si debba essere Tolti di video sul canale Per una cosa Che neanche io ho fatto Questa cosa Ragazzi A me Ha suscitato Tanto fastidio Ora Ora La mia decisione È questa Non ci saranno mai più video Su gacha life Non farò mai più video Su gacha life Non reacterò mai più video Su gacha life Su questo canale qui Il video Lo potrete trovare Sul mio secondo canale Dove lì Non ci sono Di scatole Dove non ci sono Neanche comunque limitazioni Dove il mio canale Comunque sia È libero È libero È libero di poter fare Dire quello che vuole Perché così Facendo Posso parci I video sempre Di giochi indie E comunque sia Anche reaction Che meno male Fanno anche ridere Cose che magari Non un po' sul mio canale Principale Ma un po' sul secondo Prendetela Prendetela un po' Come se fosse Il canale Comunque sia Di riserva Ecco Diciamo Un po' per quello Però io vi chiedo Un supporto Vi chiedo Vi chiedo comunque sia Anche di lasciare un like Un commento Anche per farmi sapere la vostra Voglio sapere anche la vostra Su cosa avreste fatto Comunque sia Se fossi nei miei panni Anche i miei colleghi Che comunque Avranno visto questo video qui Cioè So che appunto Non commentate mai Non è una cosa Nella vostra handle Commentare il video Di un altro youtuber E cose così Perché Io devo far capire Che io sono superiore Perché vaffanculo Io non prendo commento I video degli altri Della plebaglia No Gli scherzi comunque Voglio sapere anche la vostra Sono curioso di saperla Perché ragazzi e belli La mia situazione È questa È una situazione Che magari non è pesante Come magari altre situazioni Su Youtube Italia E di certo Non ho più supercar O magari non mi metto A piangere davanti alla fotocamera Perché porco due C'ho 130.000 euro in banca Anzi Mi metterà a fare i salti di gioia Perché comunque li ho Ma insomma Capiamoci tutti quanti Capiamoci anche Ci vuole un po' di umiltà In la vita Da parte gli scherzi Comunque Questa è la mia situazione E niente E il motivo è quello Del perché non farò più video su Youtube Niente Vi si vuole bene Un bacione Ci vediamo oggi In live alle ore 16 Statemi bene Statemi E niente Si tira avanti Sempre scherzando Col sorriso Si può andare avanti Con l'ottimismo Ciao belli